ciao amiche ciao amici questo video per rispondere a elle che mi seguo su youtube la domanda è che fare quando il tuo amante non parla poco o niente con te si apre pochissimo allora il discorso di fondo è questo in realtà devi capire quali sono le motivazioni per cui fa questo e le motivazioni sono quelle fondamentalmente di non viversi un senso di colpa perché a scisso i due ruoli la moglie che rappresenta anche l'amica la confidente comunque la persona con la quale entra in relazione condivide molti aspetti della vita e diciamo l'amante con la quale invece non parla fa solo incontri di sesso e questo è per evitarsi un senso di colpa fondamentalmente perché se si aprisse si confidasse con te allora in quel caso li sentirebbe più profondo il tradimento verso la moglie perché il concetto di tradimento è un concetto diciamo abbastanza flessibile nella mente dell'uomo cioè un'avventura a solo scopo sessuale spesso non è neanche considerata un tradimento quindi il discorso è che ti considera più o meno diciamo come una prostituta tra virgolette nel senso che con le prostitute ad esempio normalmente e poi ci dice di tutto normalmente non parli hai un rapporto e te ne vai e quello che diciamo lui vive a livello mentale nei tuoi confronti è ovvio che se tu magari ti allontani lui per cercare di recuperare si manifesta di più come probabilmente avrà fatto per conoscerti all'inizio ora tenuto conto di questo devi vedere tu che cosa cosa fare se hai diciamo voglia di ottenere qualcosa in più devi di nuovo simulare un allontanamento devi mettere un antagonista in modo tale che lui si senta spinto diciamo per cercare di recuperarti a fare qualche cosa altrimenti però devi tenere presente che superato questa fase poi tenderà a ritornare al vecchio comportamento quasi come se ci fosse una calamita che piano piano lo riporta lì questo è diciamo le possibilità se lui ti è inquadrato in questo modo di cambiare sono veramente poche anche perché lui va contro cambiando un suo vincolo interno che è quello di un concetto diciamo suo particolare del tradimento per cui in questi casi è meglio cambiare amante oppure accettare la situazione così come viversela diciamo come una trasgressione prendendo se c'è qualcosa di buono quello che viene dato insomma bene per questo video è tutto iscriviti al canale e iscrivendoti al canale avrai la possibilità di accedere al servizio una domanda una risposta per cui mi farà una domanda nei commenti e poi riceverai un video di risposta ciao 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 ciao